salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi parliamo del mini mavic ma soprattutto della resistenza al vento del mini mavic perché ormai dappertutto si parla di quanto questo drone che pesa così poco cioè meno di 250 grammi possa resistere al vento o meglio non si sa a quanto vento possa resistere perché veramente è un drone leggerissimo che quindi potrebbe avere dei seri problemi con questo vento ovviamente io non lo posso ancora testare perché non ce l'ho ancora come tanti di voi perché noi comuni mortali ovviamente non ce l'abbiamo ancora disponibile mentre altri ovviamente come avete visto sui vari canali youtube o in rete già ce l'hanno è appunto da uno di questi che sono andato a prendere diciamo un pezzo del suo filmato per farvi vedere fino a a che punto è resistente al vento questo è una cosa incredibile ragazzi mi ha lasciato davvero di stucco infatti ho deciso di fare questo video appunto per portarvelo sul canale e farvelo vedere anche a voi perché è veramente una cosa inaspettata secondo me dj ha lavorato in maniera non eccezionale di più da questo punto di vista probabilmente perché comunque risaputo con drone leggero ha problemi con il vento ma qua dj veramente secondo me è andato contro alle leggi della fisica quindi è riuscito a portare su un drone così leggero una resistenza al vento e diciamo un comportamento stabile anche con un vento che ragazzi in questo video è dichiarato intorno ai 35 km orari quindi un vento veramente forte cioè non è un venticello o una rietta ma inizia già a essere un bel vento importante infatti lo si capirà dalle immagini dal rumore del vento cioè adesso lo guardiamo insieme e poi tiriamo le conclusioni perché questo ragazzi veramente è l'argomento base in questo periodo la resistenza al vento quindi tanti magari non lo stanno acquistando perché hanno paura che sia un drone che con un po' di venticello abbia problemi a stare fermo o addirittura venga spazzato via veramente ormai se ne legge di tutti i colori al riguardo e poi c'è l'altro aspetto di cui si parla tanto che è il range ma quello è un po' diciamo soggettiva la cosa nel senso che innanzitutto a qualcuno potrebbe interessare i due chilometri dichiarati in CE ad altri invece basta anche 600 metri è già più che sufficiente perché comunque il regolamento non permette di andare di più di 250 metri però diciamo che un drone di queste dimensioni potrebbe andare tranquillamente a 600 metri essere già abbastanza poi ovviamente però non è quello dichiarato dalla scheda tecnica quindi uno potrebbe anche dire ma come c'è scritto che va così invece la cosa e ci sono tanti video già su youtube di chi ce l'ha ovviamente che ha fatto dei vari range test però i range test sono una cosa che varia troppo in base alle interferenze che ci sono dove vengono fatti quindi il range test è una cosa un po' particolare nel senso che se lo facciamo in zone completamente libere potremmo arrivare a una certa distanza se lo facciamo in zone con poca libertà a livello di interferenze radio ovviamente il range diventerà molto più corto quindi ragazzi il range test lo faremo quando arriverà quindi lo farò nelle mie zone dove ho fatto tutti i range test di tutti gli altri droni quindi lì avremo un punto di confronto con tutti gli altri droni che l'hanno fatto in quelle location mentre oggi guardiamo il vento perché il vento a 35 chilometri orari è uguale dappertutto quindi non c'è location che tenga nel senso che siamo sul mare che siamo in pianura che siamo in montagna se il vento è a 35 chilometri orari è a 35 chilometri orari quindi ragazzi adesso diamo un'occhiata a questo video poi tiriamo le conclusioni finali guardate questo mini mavic come sta lottando con il vento per tenere l'overing il commentatore dice che il vento è di circa 20-25 miglia quindi siamo intorno ai 35 chilometri orari cioè ragazzi guardate è pazzesco il piccolo mavic sta tenendo un overing cioè sta lottando ma sta fermo cioè lui è lì traballa perché traballa perché ragazzi è un dronino ma sta fermo cioè il vento non lo sta spostando infatti guardate l'immagine presa diciamo quella proprio dalla camera del mavic come sia gimbal riesce a stabilizzare questo movimento in cui è sottoposto il mavic come viene stabilizzato benissimo dal gimbal ma come il mavic ha resistito e come comunque quando il pilota ha dato gas il mavic è andato guardate come lo sta muovendo in maniera libera cioè senza avere comunque l'interferenza del vento che gli dà fastidio nel pilotarlo cioè guardate è pazzesco sentite il rumore del vento ragazzi vi rendete conto che il vento è veramente forte poi comunque vedete l'acqua che si muove in maniera importante cioè veramente cioè guardate che comportamento che ha questo drone con un vento di questo genere cioè pazzesco ragazzi secondo me questo video toglie ogni dubbio sulla resistenza al vento o meglio sulla difficoltà nel pilotare questo drone con il vento ovviamente le batterie ne risentiranno tanto perché comunque qua i motori devono spingere tanto per tenere fermo il mavic o andare addirittura controvento ma questo un po' anche con i droni importanti quando si va controvento o c'è tanto vento le batterie ovviamente durano meno cioè guardate il comportamento è pazzesco secondo me e mi piace tantissimo come il gimbal guardate la pianta guardate come la pianta adesso si sta muovendo è incredibile quanto vento ci sia quindi mi piace tanto ragazzi vedere l'immagine del gimbal o meglio l'immagine presa dalla camera stabilizzata dal gimbal del minimatic perché veramente riesce a stabilizzare il drone che comunque si sta muovendo è molto scosso dal vento anche se sta fermo nel punto in cui è lasciato o anche addirittura quando lo si fa andare che comunque ecco vedete adesso con della fermo come simulare adesso guardate come è partito a tuono adesso torna indietro cioè guardate ragazzi è incredibile guardate adesso l'overing cioè pazzesco guardate come lo gira su se stesso e guardate adesso come sta fermo cioè ragazzi qua c'è 35 chilometri all'ora di vento e questo se ne sta fermo cioè è incredibile io questo video ve l'ho portato sul canale giusto per farvi vedere cosa è in grado di fare questo mini drone con il vento perché è una di quelle cose che realmente ha fatto diciamo chiacchierare tanto sul web cioè il discorso del vento perché è un drone così leggero ma anche secondo me sarebbe andato veramente in crisi con il vento invece ragazzi guardatelo pazzesco guardate cioè lui lotta lotta ma sta lì cioè sta spremendo veramente tutta la potenza che ha per sopperire al peso che non ha ma guardate è incredibile è incredibile a me ha lasciato veramente di stucco poi commentate voi scrivete nei commenti la vostra opinione cioè per me dj qua ha fatto un sistema di volo eccezionale cioè ha portato questo drone ad essere un drone piccolissimo con caratteristiche secondo me grandissime perché nessuno l'aveva mai fatto un drone così piccolo con queste caratteristiche tecniche e soprattutto è riuscito a farlo bene poi calcoliamo ragazzi che questa è la prima versione anche del firmware cioè quindi tutto può migliorare anche perché sappiamo che dj ogni firmware che rilascia nel 99 per cento dei casi un miglioramento al prodotto non come altre aziende che magari il firmware peggiora il prodotto quindi qua partiamo da un firmware base che già va bene perché ovviamente dj non ci usa come beta tester come fanno altri produttori da qua poi può continuamente migliorare quindi ragazzi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate secondo me questo video è molto esplicativo dal punto di vista della resistenza al vento di questo drone perché comunque le immagini sono chiare cioè il rumore del vento la pianta che si muove l'acqua che si muove veramente ci dà l'idea di che condizioni meteo dal punto di vista del vento ci fossero durante la registrazione di questo video quindi ragazzi spero che questo video preso dal drone dj vi abbia già dato delle risposte sul comportamento di questo mini mavic vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte se lo avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione in testa e ci vediamo nei prossimi video ciao